ciao ragazzi bentornati a un'altra ricetta qui a mai dire dieta e con me c'è un pasticcere gaudenzio calabresi ciao gaudenzio ciao gille tutto bene tutto a posto grazie allora diciamo la verità allora la nostra prossima ricetta ovviamente non fa vedere il diciamo il massimo spa della capacità di gaudenzio però mi ha fatto una cortesia perché siccome le prime ricette sono dedicato al libro mai dire dieta ho chiesto a lui da darmi una mano a preparare anche i biscotti all'avena con le pepitte di cioccolato quello tipo l'americana allora innanzitutto perché ti piace questa di questa ricetta allora questa ricetta è molto molto diciamo carina tra virgolette perché ci agevola la mattina quando siamo attenti ovviamente nella nostra giornata a quello che mangiamo a mangiare qualche cosa che sia un pochino più allegro rispetto magari a una limitazione una restrizione che magari qualcuno può avere la mattina non mangio quello non mangio il dolce non mangio lo zucchero e invece in questo caso utilizziamo la farina di avena che ha proprietà che adesso più o meno tutti un po conosciamo e mettiamo il cioccolato fondente cosa più golosa del cioccolato non c'è e quindi poi diciamo anche un'altra cosa l'avena è eccedente per miei amici che hanno problemi con glutine perché comunque aver ha una ridottissima quantità di glutine nell'avena dall'altra cosa il nostro cioccolato fondente aiuta a produrre il triptofano triptofano è molto importante perché aiuta a stimolare la serotonina e ci aiuta a dormire meglio e ci aiuta con magari momenti di depressione o tristezza così questa è una ricetta non solo goloso e divertente però anche molto benefica per nostro corpo allora gaudenzio allora andiamo subito a dire quali sono gli ingredienti di questa ricetta siete pronti andiamo a scoprirli insieme ci servirà un uovo una tazza e mezza di farina di avena una mezza tazza di olio di cocco sciolto ma freddo tre cucchiaini di vaniglia liquida o in polvere un mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio tre cucchiai di miele grezzo o zuccheri di canna grezzo pizzico di sale rosa 80 100 grammi di cioccolato fondente al 85 95 per cento allora ragazzi siete pronti allora la prima cosa che ti devo chiedere gaudenzio è la farina di avena dove si trova la farina di avena allora adesso la farina di avena si trova in quasi tutti i supermercati quindi abbastanza facile da reperire ma siccome i fiocchi di avena che si utilizzano nelle colazioni ormai da tempo sono sicuramente più reperibili noi utilizziamo oggi dei fiocchi di avena e produciamo noi la farina che ci serve per i nostri biscotti quindi che è molto molto semplice per cui andate a comprare un sacchettino di avena che si utilizza per la colazione per fare tanti smoothies la mattina con yogurt eccetera e noi la sbricioliamo e facciamo la nostra farina quindi ci aiutiamo con un frullatore quindi con un robot da cucina esatto ok e andiamo a mixare quindi riduciamo in polvere quello che quelli che sono i nostri fiocchi di avena che utilizzeremo per i nostri biscotti che sono semplicissimi da impastare a casa quindi siccome i nostri amici le nostre amiche non è che hanno così tanto tempo non ce l'abbiamo tanto tempo per riuscire a fare delle cose molto elaborate questi biscotti sono velocissimi da preparare allora siamo pronti via eccolo allora è molto veloce nostro robot che ci sta aiutando velocissimo allora è stato molto molto veloce così fammi aprire adesso abbiamo nostra farina di avena che mi aiuta tantissimo per proseguire con la nostra siamo pronti alla verso qua è stata semplicissima però facile 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 molto semplice ok quindi abbiamo la nostra tazza di avena come andiamo a procedere per impastare i nostri biscotti allora partiamo dagli elementi liquidi quindi aggiungiamo il nostro uovo nella ricetta quello che è previsto ops poi andiamo ad aggiungere l'olio di cocco che è diciamo uno degli ingredienti principi di questo di questa preparazione quindi voi vedete quest'olio di cocco che è già sciolto perché in commercio potete trovare l'olio di cocco che è un pochino più solido quello che va fatto è va scaldato anche con l'utilizzo del nostro microonde e fare poi attenzione alla temperatura perché deve essere riportato a temperatura ambiente oppure ci sono quelli oli come quello che ho appena utilizzato che sono già in forma liquida e quindi agevolano ulteriormente la nostra ricetta dopodiché andiamo ad aggiungere un pizzico di sale rosa quindi mettiamo un pizzico di sale andiamo ad aggiungere lo zucchero di canna in questo caso perché trovate nella ricetta la possibilità di utilizzare o il miele grezzo o il zucchero di canna grezzo noi oggi scegliamo lo zucchero di canna ok quindi andiamo a mettere all'interno anche lo zucchero di canna poi passa passa quello che facciamo è aggiungere il bicarbonato perché serve un pizzico di bicarbonato che aiuta diciamo un pochino un po' di brio che vuol dire è un lievitante ragazzi ci aiuta a sollevare i nostri biscottini esatto e poi trovate sempre nella ricetta la possibilità di utilizzare o la vaniglia liquida oppure la vaniglia in polvere noi oggi utilizziamo la vaniglia in polvere ok quindi aggiungiamo posso aggiungere un'altra cosa ragazzi la vaniglia negli stati uniti utilizzato in tutti i dolci come il sale per il pane è un proprio una spezia che non dà tanto di sapore quanto di sostegno per gli altri sapore così se volete veramente passare a una ferrari di gusto aggiungi la vaniglia non dicono quasi tutti ma quasi tutti come sale esatto esatto allora andiamo a miscelare questi primi ingredienti ok quando abbiamo ottenuto un composto abbastanza omogeneo e liscio diciamo andiamo ad aggiungere la nostra farina di avena che abbiamo precedentemente sbriciolato e creato in casa ok quindi facilissimo come vedete sono passaggi velocissimi nel frattempo gil quello che facciamo è che arrivato a questo punto noi possiamo preriscaldare il nostro forno ok a 180 corretto 180 gradi correttissimo e poi l'altra cosa che secondo me questi sono anche momenti fantastici da invitare anche i vostri figli di aiutarvi così anche quando parliamo di mind di re dieta secondo me l'educazione nutrizionale in casa è fondamentale e se i nostri bambini sviluppano dei gusti sani la porteranno per tutta la vita perché noi ricordiamo sempre i gusti del nostro gioventù assolutamente assolutamente poi vedere questi biscotti la mattina sul nostro tavolo della colazione con il cioccolato fondente sicuramente ci fa iniziare molto molto meglio la giornata io aggiungo un altro po di farina che secondo me serve ti stavo per chiedere la stessa cosa aggiungiamo aggiungo perché ragazzi era un po liquido il nostro impasto così anche qui non dobbiamo essere troppo fiscali con le diete perché la dieta la cucina secondo me deve essere vissuto con leggerezza ok perché anche la dieta se è troppo oppressiva diventa difficile a seguirlo anche la cucina un po all'occhio o cubi quanto basta cubi ricette servono sempre assolutamente fondente passiamo ovviamente all'ingrediente principale oltre l'avena il cioccolato fondente prendiamo un cioccolato fondente all'85 per cento di cacao e andiamo a sminuzzarlo perché potete sia utilizzare le gocce di cioccolato che in commercio le trovate abbastanza facilmente oppure come faccio io mi piace sempre tagliare la tavoletta di cioccolato lo facciamo per conto nostro quindi trovate delle tavolette di cioccolato che sono abbastanza sottili quindi non prendete diciamo le tavolette di cioccolato quelle dove ci sono i pezzettoni un pochino più alti che si usano in pasticceria perché poi è più difficile da tagliare diciamo anche la verità che comunque è un po di intenditore il cioccolato fondente che io controllo la provenienza no posso magari andare su alta qualità diamo sempre quando parliamo della nostra nutrizione deve essere di alta qualità non avere paura e non risparmiare su quello che ingerisci perché è molto molto importante per la salute assolutamente siamo pronti abbiamo sminuzzato il nostro cioccolato fondente e andiamo ad aggiungerlo nella nostra ricetta quindi nella nostra preparazione girare bravissima assolutamente giriamo amalgamiamo e già è goloso soltanto a guardarlo e sì ok adesso è riscaldato nostro forno a 180 qua per quanto tempo devo lasciarli dentro il forno allora ricordiamo prima di lasciarli un 10 15 minuti in frigo mentre il forno si sta riscaldando e arriva a temperatura noi facciamo rapprendere un pochino il composto in frigo facciamo noi ovviamente in questo caso abbiamo i minuti e quindi non lo facciamo raffreddare in frigo facciamo conto che l'abbiamo appena preso nel frattempo io vado avanti sai dove vado io vado proprio ragazzi a spiegarvi le star di questa puntata andiamo a scoprire insieme e star dei nostri biscotti avena con goccette di cioccolato l'avena sativa e per rilassamento in caso di stress benessere mentale regolarità del transito intestinale azione emolliente allenativa per il sistema digerente modulazione eliminazione dell'assorbimento dei nutrimenti e antiossidante vi sono tracce del consumo dell'avena fino da 4000 avanti cristo ma si trattava della pianta selvatica raccolta e consumata nella pianura dell'asia centrale e dell'europa centro settentrionale la coltivazione dell'avena risale all'inizio dell'era cristiana e si è diffusa soprattutto nelle regioni dell'europa del nord perché è un cereale che richiede molto umidità per crescere il cioccolato nero quello che è povero di zuccheri e di grassi ha un'azione tonico e di sostegno metabolico e antiossidante aiuta a dare proprio una normale tona all'umore in più c'è l'olio di cocco che sembra che sia stata proprio marco polo a descrivere per primo il cocco l'ha chiamato gustose dolce come lo zucchero e bianche come il latte capace sia di nutrire che di dissettare notizie certe evidenziano che i portoghesi e spagnole incontravano il cocco conquistando le coste occidentali dell'america centro meridionale per poi diffonderlo e coltivarlo dal 1525 aiuta con l'etrofismo delle acute e ha un'azione di sostegno e ricostituente per il corpo Gaudenzio ha visto le nostre star sono veramente potenti come nutrimento per il nostro corpo fantastico fantastici siamo super contenti però andiamo a completare e finire nostra nostra ricetta sì allora passati 15 minuti in frigo il nostro impasto lo andiamo a riprendere ci aiutiamo con un cucchiaio con le mani e facciamo delle piccole palline che possono essere queste che adesso voi vedete noi le mettiamo nella nostra teglia pronta e preparata per essere infornata vi ricordo 180 gradi quindi più o meno sono 10 minuti ma in realtà poi ognuno di noi conosce il proprio forno quindi dai 10 ai 15 minuti in base a quanto li vorrete croccanti i nostri i nostri biscotti cercate anche di non appiattirli perché magari se fate una pallina tipo un albicocca in forno si appiattiranno da soli esatto allora facciamo magia 1 2 3 andiamo a fornali magicamente sei pronto esatto siamo pronti 1 2 3 e voilà magia qui a magia di dieta riusciamo a cucinare le cose con un batter d'occhio esatto esatto e quindi noi abbiamo preparato i nostri biscotti con il cioccolato come vedete sono molto friabili perché l'avena ci dà una grande friabilità quindi sono molto morbidi poi in base alla cottura che preferite potete renderli anche più croccanti ok e questa è una colazione perfetta o magari li utilizziamo per uno spuntino durante la giornata eh sì eh sì e poi sono veramente gustoso piacciono ai bambini e ricordo sempre sono molto friendly a chi ha un problema di intolleranza glutine e chi vuole tirare su il morale allora grazie Gaudenzio grazie Gile e mi raccomando ragazzi non cambiate canale perché qui su Energy ci sono sempre un sacco di consigli e tante tante ricette vi aspettiamo grazie a tutti